Buongiorno, sono De Vincenzi Frausto, di BF Legno, azienda nata nel 1983, produttrice di finestre in legno e legno alluminio. Produciamo finestre in legno massiccio già da oltre 30 anni, cerchiamo di produrre una qualità per abitazioni private e puntiamo molto sul discorso di abitazioni private sostenibili, dove il consumo del carburante è veramente limitato, anzi quasi tendente allo zero, questa è la nostra filosofia aziendale di massimo. Ci siamo impegnati, abbiamo fatto corsi a casa clima, siamo stati i primi fra i Nami d'Italia a fare corsi a casa clima, siamo molto sensibili al discorso dell'impatto ambientale, ci disturba molto il fatto dell'inquinamento e pensiamo che le case a sostenibilità ambientale siano quelle che per il futuro saranno il motivo principale del miglioramento ambientale. Ci siamo resi partecipi a questo evento perché abbiamo notato il grosso interesse in questa manifestazione alla bioarchitettura e alla sostenibilità fondamentalmente, oltre al fatto che chi guarda in questa direzione ha bisogno di prodotti, di componenti, diciamo di alta, di buona qualità per la tenuta, diciamo, termica della casa. Questo noi ci proponiamo di fare in continuazione e miglioriamo sempre i nostri prodotti in questa direzione. Per noi la cosa più importante è quella di poterci permettere di, diciamo, di presentarci ai tecnici, che sono, diciamo, un po' il fulcro della costruzione dell'abitazione, di spiegare meglio quali sono le nostre prorogative, quali sono i nostri prodotti e qual è il valore aggiunto che diamo ai nostri prodotti, diciamo, in qualità.